E' passata una nuova settimana ma della bozza per la convenzione ENAV, il nodo centrale che blocca lo start-up dello scalo di Comiso, non se ne continua a sapere nulla. Il documento è al vaglio del Ministero dell'Economia e della Corte dei Conti che non hanno ancora espresso alcun parere. Nel frattempo si sono susseguite le prese di posizione che definire contrastanti è riduttivo da parte del presidente dell'ENAC. Vito Riggio sul Magliocco ha cambiato idea negli ultimi giorni con una frequenza davvero impressionante, passando dalla totale chiusura ad un'apertura sorprendente e aspicando addirittura una risoluzione cenere della vicenda. Nel frattempo tra scioperi della fame cominciati e poi terminati c'è stata anche una nuova riunione del Comitato Ristretto per l'Aeroporto e la convocazione per giorno 20 di un tavolo in prefettura. Il sindaco di Comiso Giuseppe Alfano è stato pure a Napoli per incontrare il vice commissario dell'Unione Europea Antonio Tajani a cui ha consegnato una lettera firmata dai rappresentanti degli stati generali. E per completare il quadro generale in questi sette giorni è sfumata infine l'ipotesi di utilizzare il Magliocco come sostituto di Fontana Rossa. A novembre, nel mezzo di quella che si preannuncia una nuova guerra medio orientale, i passeggeri che dovranno atterrare presso lo scalo catanese saranno dirottati molto probabilmente presso la base militare di Sigonella.